allora buonasera a tutti e forza Napoli allora voglio parlare della partita Empoli-Napoli partita vinta da Napoli diciamo non meritatamente però come si dice chi vota la palla in chi le supporta i tre punti a cosa chi fa più gol chi le supporta i tre punti a cosa quindi penso che fa parte del calcio sta cosa qua il Napoli veramente stava sulle campi non so che bip avevano combinato la sera prima che corgia avevano fatto però il Napoli non mi è piaciuto se l'Empoli pareggiava questa partita a mio modesto avviso da sportivo non aveva rubato niente però c'è il fatto che non c'è un rigore che ci sta perché pesta il piede di polità quindi è calcio è calcio è facile è inutile per rossicare perché l'infrappac mi sono fanno ok e stiamo a posto ma mo giustamente Napoli ha vinto 1 a 0 su un calcio di rigore non giocando un bel calcio che poi parliamoci chiaro con il nostro mister noi un bel calcio non lo vedremmo mai perché non so se vengono i risultati e a me in questo momento mi accontenti per i risultati ovviamente non è che vedremo proprio che la squadra noiosa no ogni partita va analizzata e va studiata per come gioca ma ci sono stati fatti però il Napoli ha vinto che non è che ha giocato chissà che e meritava questo tempo di ovareggio ok ma mo io voglio capire una cosa e poi concludo perché questa è una cosa che mi sta molto a cuore ma sta proprio un coppo di fighi un coppo di pancreas un coppo di palla ma sta ancora questa cosa a ieri io ho vinto con un autogol capò con un autogol o Milano ha vinto 1-0 con l'Udinese che per 70 minuti 70 minuti l'Udinese ha giocato in 10 ma ma facendo capire una cosa in due sangue e chi fa molto ma il problema fosse un Napoli e tutti i critici in coppo di Napoli perché non meritava e il Napoli non ha giocato bene ma è stata la palla in coppo di calcio di cor che ci sta e non ci ha scassato cazzo forza Napoli sempre sempre perché tutto riesce calcisticamente parlando e non è sicuro ecco i punti che facciamo e forza Napoli